La preghiera islamica nella moschea di Via Caorsana viene diffusa con un megafono all'esterno, un'abitudine che secondo l'associazione di categoria Confesercenti disturba alcuni commercianti nella zona. La segnalazione del nostro socio che ha un incanto di distribuzione di carburanti nei pressi della moschea che nelle ultime settimane creano un serio disagio per questo tipo di attività e soprattutto per i clienti che vanno per il servizio. Confesercenti comunica di aver segnalato il problema alla questura, ma la comunità islamica di Piacenza replica che le casse funzionano a volume basso e servono a diffondere il discorso dell'imam anche ai fedeli posizionati nel giardino della moschea a causa delle regole di distanziamento anti-Covid che non permettono a tutti di pregare nella sala interna.